Questa è la Melanchier canadensis, una Rambo, meno 30 più 45, questa qua è una delle piante interessanti che ha questa bellissima gemma che si gonfia, è pelosa la gemma, poi diventa una palla bianca, poi a giugno ci sono i frutticini, buonissimi, e poi settembre e ottobre comincia a virare il colore delle foglie che diventano prima gialle, poi rosse, poi viola, una pianta di una bellezza infinita.